Ora all'intervista uno degli scrittori più importanti del Novecento, Raffaele Lacapria, che parla del suo ultimo libro, La vita salvata. Lo ha incontrato per noi, caro Lacarone. In questo libro lei racconta, tra le altre cose, del suo concetto di bellezza. Per me la bellezza è una cosa essenziale. Io più che una visione del mondo morale, ho una visione del mondo estetica. Si legge nel suo libro, La scrittura è l'ultimo atto amoroso che mi sia rimasto. La scrittura serviva per avvicinare le persone, ma anche un paesaggio, il cielo, il mare. Quando uno scrittore le adopera, sa che le parole non sono innocenti e quindi deve scoprire dietro cosa c'è. E quello è importante. Ed è anche bello perché, in fondo, noi stiamo al mondo per questo. Ha compiuto 98 anni. Qual è oggi il suo pensiero? Non è stata una vita infelice la mia. Secondo me, non essere sorridenti è una menomazione. Significa che uno non è abbastanza intelligente. Cosa mi rende felice? A me mi rende felice ogni possibile cosa. Se hai una bella giornata, mi rende felice. Vedo te, una bella ragazza, mi rende felice. E scrivere una cosa che mi rende felice.